A Napoli quindi bisogna, secondo lei bisogna convivere con la Camorra? Ma io non penso che bisogna convivere con la Camorra, a Napoli bisogna convivere con tutto, perché Napoli è una città a parte, anche a Napoli se vai in un ospedale e ti vuoi fare le analisi, devi sempre dire, ma io sono con cugine e kill, sono con parente e kill, per passare la fila. Lei a un certo punto dice, alla Camorra ho regalato un mucchio di canzoni, cosa vuol dire? Che sono andato a cantare ai matrimoni, io ho cantato ai matrimoni di tutti e nemmeno sapevo a volte dove andavo a cantare, perché a Napoli vai a cantare dappertutto, non è che tu dici, ti chiama Peter, scusi chi sei, mandami il certificato penale, anche poi perché se non ci vai, io poi ho paura, sono una persona che ha paura, una persona che ha paura se tu non ci vai a cantare, che ne sai? Senta, lei ha ricevuto, e poi è stato prosciolto, un avviso di garanzia per concorso esterno in associazione mafiosa, cosa era successo, perché era finito? Ero andato a cantare, andato a cantare sui matrimoni c'erano le foto, io quando sono stato dal magistrato, loro avevano le loro foto, ho portato le mie, ho detto, allora questo è Clinton, questo è il Papa, questo è un mio collega, purtroppo chi nasce a Napoli, a Napoli vai a fare i matrimoni, è un circuito che non esiste in nessun posto d'Italia.